Pietro Tribuiani, intanto possiamo dire e annunciare come ci siano state le dimissioni di Tribuiani e di maestrile al gruppo Lega per Salvini in questi ultimi giorni. Ora che succederà? Noi ci siamo autosospesi dalla Lega Salvini-Abruzzo perché non condividiamo e non intendiamo accettare così senza nessuna condizione le indicazioni che ci ha sottoposto l'On. Luigi D'Eramo in qualità di coordinatore regionale della Lega Salvini-Abruzzo. Noi eravamo per condividere un percorso ma soprattutto un programma, quindi l'accordo e eventualmente una convergenza si doveva fare sul programma. Ciò non è avvenuto, i nostri punti di programma che noi abbiamo cercato di far condividere all'attuale sindaco, alla giunta, alla maggioranza è stata completamente ignorata, quindi nessuno ci ha chiesto di sederci un tavolo poi di fatto a condividere i programmi per cui è stata una scelta caduta dall'alto e noi questa non la possiamo accettare perché abbiamo un impegno con i nostri elettori e con la città per cui noi intendiamo rispettarlo. Si può dire che avete avuto anche un grande appoggio, vicinanza da parte dei gruppi di centrosinistra e Giuliano? Ma allora appoggio perché qui non si parla più di centrosinistra e centrodestra, ricordiamolo che il sindaco Costantini in campagna elettorale sono andato a ballottaggio contro di lui e lui ha incentrato la sua campagna elettorale contro proprio la Lega, contro il sottoscritto e quindi contro la Lega sovranista, populista e razzista. Quindi adesso lui ha chiesto anche e ha ottenuto i voti dalla sinistra che sono stati poi determinanti per vincere. Quindi questo cambio di casacca è chiaro che soprattutto negli ambienti di sinistra non va giù e noi in questo caso diciamo probabilmente la sinistra ci riconosce, la nostra onestà intellettuale e la nostra coerenza dal punto di vista politico. Quindi noi non ci siamo venduti per l'imposizione che ci arrivano dall'alto ma vogliamo semplicemente condividere i programmi importanti per il bene della città. Se ciò non dovesse avvenire resteremo nei banchi d'opposizione. E contribuiamo qui fuori dal municipio di Giulianova, c'è uno striscione oggi ben un'istituzione grande con una scritta chiara e lampante e ridateci i nostri voti. Sì perché in effetti qui si potrebbe configurare quasi un reato perché il sindaco nelle elezioni amministrative appunto il sindaco fa un programma e fa un patto con i cittadini. Il patto è stato totalmente tradito quindi i voti che il sindaco ha preso incontro la Lega da quella parte di sinistra che ovviamente non ce l'aveva con il sottoscritto ma con il simbolo che il sottoscritto rappresentava in campagna elettorale quindi ha appoggiato quindi quelle scelte, ha appoggiato il sindaco quindi contro la Lega e oggi si sentono traditi. Quindi loro giustamente rivendicano i voti che gli hanno dato e che gli hanno permesso di diventare sindaco. Quindi questo è diciamo si può definire veramente un colpo di stato.